Dozzi, stazio di agitazione sciopero alla Carbotech, insomma un segnale da parte dei lavoratori su delle rivendicazioni legate al contratto collettivo aziendale. Sì, diciamo che questo stato di agitazione ha una caratteristica particolare, peculiare. Diciamo che normalmente può esserci anche una trattativa con una rottura che avviene dopo. In questo caso la rottura è partita da subito perché c'è stato un problema che ci trasciniamo da tanto tempo nella contrattazione collettiva in questa azienda. Noi abbiamo chiuso un accordo tempo fa che prevedeva scarsi incrementi del premio. Il grosso dell'investimento in termini economici è stato per dare una copertura ai lavoratori che non avevano nessun premio. Cioè noi avevamo intere fasce di lavoratori, quelli neoassunti, tagliati fuori dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Facemmo quello sforzo per equiparare tutti. Quell'equiparazione non è avvenuta subito, è avvenuta in quattro anni. Dopo quei quattro anni abbiamo avuto zero incrementi per tutti. Adesso ripartire su un premio variabile che non ha mai funzionato, qualche problema lo crea. Quindi diciamo la rottura è avvenuta dopo tre incontri, perché l'azienda continua a pensare a gradualismi alla luce dei fatti abbastanza inaccettabili. Quindi servono risposte subito, il costo della vita non ci consente di poter dilazionare o avere ambiguità su queste cose, ma oserei dire che c'è un problema anche sulla precarietà che merita risposte subito. Sciopero è presidio dinanzi alla Carbotec, sono state proclamate 38 ore di sciopero per quanto riguarda i salari accessori, ma qualcosa nelle ultime ore si sta aprendo? Sì, siamo già stati contattati dalla direzione della proprietà per un imminente incontro verso le dieci e mezza di questa mattinata. Quindi a breve già abbiamo discusso con i lavoratori un attimo ultimi dettagli per poterci un attimo regare sopra e iniziare la riapertura delle tavole trattative. Nello specifico cosa chiedete? Chiediamo un adeguamento dei premi, una contrattazione ferma ormai da sei anni. Nello specifico chiediamo subito per poter iniziare una discussione, una garanzia sull'aumento o almeno delle etichette restaurant e alcune sfaccettature che poi durante il tavola trattativa andremo a discutere.